SONO DI PORETO DI PORETO DI PORETO DI PORETO Beatrice, lo sai che non possiamo farti uscire? Sei sottoposta a misure giudiziarie restrittive. Ho detto di non toccarvi. Ho capito che cerca di fermi una corte, ma non mi tocci. Bisogna che tu impari a relazionarti con gli altri ospiti. Chi è? Sono da nuova. Sono da nuova. Sono da nuova. Non ti devo distruggere in detenzione, eh? Te un po' di cazzi tuoi, mai. Mi scusi a lei, la dottoressa? Beatrice, porca è! Sto socializzando qui! No, si sta impicciando. Avanti, per cortesia. Per esempio, come c'è la cava questa a Morelli? Beatrice ha sottoposto Donatella a una specie di love bombing. Praticamente l'ha espugnata. C'è un autobus! Venite! Ma aspettiamo stasera per piacere, è una bravata. No, la macchina, no! La macchina! Ma Tchaikovsky, eh? E qui si deve avvertire subito le forze dell'ordine. Non siete matte! Secondo alcune perizie sembrerebbe di sì. E basta di stare sempre male, basta. Voglio stare bene. Vogliamo stare bene.